Ciao a tutti, i Rothschild sono i veri padroni del mondo. Ecco come fanno. Intanto si dice che questa famiglia faccia parte della cupola degli Illuminati. Illuminati che probabilmente sono controllati a loro volta da qualcuno non di origini terrestre, diciamo, probabilmente da qualche Elohim. Comunque, i Rothschild è una famiglia europea, di origini tedesche e di religione ebraica, che è di origine tedesche, ma che poi comunque si estende anche in Francia, si estende in Gran Bretagna. Diciamo, il nome significa scudo rosso, la traduzione, diciamo, del cognome Rothschild in tedesco significa scudo rosso. E questa famiglia emerge, diciamo, con Meyer Rothschild intorno a metà del 1700, e che introdusse anche questo simbolo, diciamo, il pugno chiuso con cinque frecce all'interno. Queste cinque frecce rappresentano i cinque figli di Meyer, che poi rappresentano la diffusione della dinastia Rothschild in Europa. Allora, come fanno i Rothschild a controllare il mondo fondamentalmente, ad essere i padroni del mondo? Lo fanno attraverso le banche. Loro sono dei banchieri e controllano praticamente il sistema bancario privato e in mano ai Rothschild. Ogni banca in realtà rappresenta una piramide, è incasellata, diciamo, all'interno di un'altra scatola, una sorta di scatole cinesi, e alla fine, in cima a queste scatole cinesi, quindi un sistema di controllo di tutto il sistema bancario privato, c'è una governance della famiglia Rothschild fondamentalmente, principalmente, poi ci sono anche altre famiglie, ma quella principale è la famiglia Rothschild, e come fa, quindi, a controllare il mondo? Va attraverso due o tre sistemi. Allora, intanto, dall'alto riescono a muovere immense quantità di denaro, quindi un modo di agire è attraverso la borsa. Quando loro comprano, la borsa sale, quando vendono, la borsa scende, e quindi loro riescono a movimentare, vendono azioni, ad un prezzo elevato, la borsa inizia a crollare perché iniziano a vendere azioni, mettono azioni sul mercato, la borsa inizia a crollare, loro intanto guadagnano perché hanno venduto quando il prezzo era alto, la borsa scende, tutti iniziano a vendere, e quindi le azioni hanno un calo drastico e quindi si possono comprare pochi soldi, loro iniziano a raggranellare, iniziano a raggranellare, iniziano a comprare, e quindi senza aver fatto nulla praticamente si è trovato uno spostamento enorme di soldi in cui molti dei finanziatori, quelli piccoli, hanno venduto, molte aziende tra l'altro sono fallite, loro hanno raggranellato azioni, quindi hanno raggranellato aziende, hanno raggranellato non soltanto soldi finti, ma aziende vere, e quindi attraverso questo sistema si impadroniscono sempre in modo più capillare dell'economia, questo è un sistema, poi un altro sistema è quello delle crisi, crisi pilotate, anche qua avendo questa enorme disponibilità, trilioni di dollari, hanno la possibilità ovviamente di pilotare le crisi e i boom, quando vogliono immettere, quando buttano l'esca, creano un boom economico, mettono soldi di denaro nel mercato a tassi molto agevolati, quindi le persone fanno debiti perché hanno possibilità di avere molto denaro e quindi investono, investono in aziende, comprano, insomma c'è il boom economico e loro ovviamente guadagnano, nel senso che prestando soldi guadagnano, ma il vero guadagno non è quello, è quando poi vogliono creare la crisi, creare la crisi per riprendersi quello che altri hanno creato, persone che hanno creato aziende, hanno messo le loro energie per creare aziende, per creare ricchezza, hanno quindi investito tutte le loro energie ad esempio in un'azienda che hanno magari anche fatto funzionare, però dopo gli tolgono i fondi, gli tolgono l'ossigeno perché le banche non prestano più denaro, basta, stop, finisce. E quindi molte di queste aziende che si sono indebitate comunque vivono per pagare i debiti e molte falliscono, falliscono e quindi la banca, i Rothschild, si prendono aziende sane che in qualche modo diventano le loro proprietà. Molte famiglie vivono, non solo per sopravvivere, ma tutte le loro energie le dedicano a pagare i debiti che hanno creato con i Rothschild o con le varie banche le loro associate. E questo è il terzo sistema, il sistema del debito, del finanziamento, degli interessi. Cioè, prestando soldi poi hanno praticamente degli schiavi, rendono un militare schiavo che deve lavorare per loro, per pagare i debiti, per pagare gli interessi. Quindi tutta questa forza lavoro che in realtà non lavora più alla fine per se stessa, ma lavora semplicemente per pagare i debiti che ha contratto con i Rothschild. E poi c'è il sistema dei governi, perché il sistema del fido bancario, questo fido bancario virtuale che poi devi pagare con lavoro reale fondamentalmente, non funziona soltanto per i privati cittadini, ma funziona anche per i governi. Perché quando un governo non riesce a far quadrare i conti, le cose non riescono ad andare nel modo giusto, come fa il governo a far quadrare i conti? Chiede dei finanziamenti. A chi li chiede? A delle banche del sistema bancario privato, dei Rothschild, che quindi incamerano anche e poi deve pagare gli interessi. E questo ovviamente genera anche un controllo, ma i governi in realtà sono tutti controllati dal sistema finanziario, perché altrimenti un governo potrebbe tranquillamente, essendo un governo sovrano, ma adesso non abbiamo più la moneta sovrana, un governo sovrano potrebbe stamparsi tranquillamente i soldi, riappianare i propri debiti e interessi a zero. Invece questo non viene concesso. Non viene concesso e quindi anche i governi diventano schiavi di questo sistema. E quello a cui vorranno tendere è avere una moneta unica, globale, per poter controllare meglio l'economia, in modo tale che l'oro saranno veramente il fulcro totale dell'economia. Ora, questo sistema, diciamo, era descritto già nella Bibbia. La Bibbia descriveva già questo sistema di controllo finanziario che è quello che viene utilizzato. Il sistema di controllo finanziario è quello che dice che se tu presti denaro sei padrone, chi riceve il prestito del denaro è schiavo. È schiavo di un sistema che lo costringe, diciamo, a vivere poi per pagare i debiti contratti. E questi debiti contratti che tu hai investito magari per un'attività, questa attività ti viene portata via nel momento in cui vogliono tirare, diciamo, dopo che hanno buttato le esche, vogliono tirare la rete. E tutti i pesciolini restano dentro. I pesciolini sono aziende che le persone hanno creato. E questo sistema è stato, diciamo, Yehua o Yahweh, uno degli Elohim biblici, perché in realtà ne sono citati altri, ha descritto di fatto questo sistema. Questo fa intendere che queste famiglie, diciamo, probabilmente in realtà sono pilotate ancora più in alto al vertice della cupola o già magari infiltrate nelle famiglie, ci potrebbero essere, secondo diverse teorie, dei libri di umani Elohim, quindi questi antichi extraterrestri che in qualche modo ancora controllerebbero attraverso le finanze e anche attraverso le religioni fondamentalmente, perché poi la religione, diciamo, è al servizio della finanza, non è il contrario. Molte religioni, almeno le tre religioni, diciamo, principali, quella ebraica, quella cristiana e quella islamica, diciamo, servono per controllare le masse messe assieme, soprattutto come numeri la religione cristiana e la religione musulmana, controlla una varia, cioè la maggior parte delle persone, insomma, vengono controllate attraverso le religioni in questo modo. Vengono controllate perché le religioni ti mettono una serie di vincoli legate, ad esempio, alla sessualità, legate a un sacco di cose, che non sono vincoli, sono vincoli che se una persona accetta si trova sempre di più, diciamo, succube di un sistema, fondamentalmente. La religione cristiana è inventato la confessione, ad esempio, quindi c'è tutto un meccanismo che di spirituale non ha nulla a che vedere, che però gestisce un forte controllo delle masse. Questo è il sistema, diciamo, quindi col sistema religioso e il sistema finanziario, i Rothschild di fatto controllano, i Rothschild o le famiglie di Illuminati, o probabilmente gli Elohim, controllano completamente l'umanità, che crediamo di essere liberi, ma fondamentalmente siamo schiavizzati da questo sistema. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao a tutti!